Il convegno Chiomento è ormai un classico appuntamento del MIPIM. Quest'anno, se dovesse fare un piccolo bilancio di quello che vi siete detti, cosa direbbe? Direi che il pubblico ha percepito l'importanza dell'immobiliare, del MIPIM, ha percepito la necessità di concretezza ed è intervenuto ad altissimi livelli. Questo fa ben sperare i privati che vengono al MIPIM da più di un decennio, che in altri anni si sono sentiti un po' trascurati, forse frustrati, anche nel loro desiderio di presentarsi come vetrina per gli investitori stranieri, perché il MIPIM è questo. Allora avere i rappresentanti del Paese, del sistema Paese, che danno una percezione di non frammentazione, di non episodicità, è un segnale molto positivo, anche oltre i trend finanziari in sé per sé.